segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te dall'altra parte deve avere la nato mi pare che zelensky dica questo dicendo acceleriamo l'adesione chiede tutto supporto possibile immaginabile dopodiché i tempi della nato non sono esattamente quelli che spera di assolutamente no poi sappiamo che nella nato abbiamo anche paesi che non sono così facilmente non sono così trasparenti nella politica di sostegno alla lotta contro l'invasione dell'ucraina da parte della russia penso la turchia ma penso anche l'ungheria di orba che in ambito unione per esempio europea si è già schierato con schierato contro l'incremento delle sanzioni ha già chiesto la revoca delle sanzioni esistenti per cui è la nato è un club di democrazia comunque sostanzialmente con qualche eccezione però si muove con una procedura che richiede la l'unanimità dei consensi dopo ci sono gli strumenti per muoversi in questa direzione però ripeto in questo punto a questo momento il punto è che la controffensiva ucraina andrà avanti sarà sostenuta militarmente con l'invio delle armi che hanno aiutato gli ucraini a resistere e hanno trasformato la loro straordinaria volontà in una capacità effettiva di far arretrare questa macchina da guerra sgangherata che Putin ha messo insieme. La macchina da guerra sgangherata però non è l'unico campo di battaglia di Putin cioè da una parte c'è quello che sta facendo o facendo bene facendo male l'esercito di Putin in Ucraina e dall'altra parte c'è la guerra economica la guerra energetica insomma ci sono varie altre questioni Grazie a tutti!